Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Benvenuti in un nuovo trasloco vlog Questo è uno degli ultimi, vi dico solo questo, ce ne saranno altri ma siamo addirittura d'arrivo Allora, oggi dobbiamo fare assolutamente la mega valigia Dobbiamo mettere in unico punto tutte le cose che sono da caricare in macchina e devo svuotare la vetrina quella lì piccola non l'altra grande perché quella ci occuperemo un altro giorno di quella perché poi come va svuotata va anche smontata e nulla, vediamo cosa combiniamo oggi vi faccio vedere le cose, vi faccio vedere adesso in che stato siamo e poi dopo con una sistemata come ci siamo praticamente organizzati guardate, ecco la situazione ora è questa, quello si è un po' in sacca sulla spazzatura ma cose che tipo di fatto i fazzolettini, bottiglie dell'acqua e guardate questo accattastamento di roba così, ma questo l'ho lavata la coperta, questa qui l'ho lavata, tutto pulito lì ci sono delle cose nuove di Yoins per una nuova collaborazione pigiami, l'ho in su, tutto piegato e comunque lì c'è questo casino lì c'è presa una borsa lì c'è ancora preso il cappotto c'è quel casino quella roba un cavalletto c'è mio marito e nulla ragazzi, dobbiamo sistemare il tutto vediamo un attimino cosa combiniamo lì c'è che belli questi tutti quelli che sta mettendo ora sono miei grazie a tutti 1, 2 ripiani liberati Ora ci dobbiamo occupare di questo e di questo Perché là poi sono sottovuoto Pijami invernali Copri più e meno Sto piano piano facciamo tutto Ah lì Come vedete è spuntato il mio vestito da sposa Che era dentro la valigia grossa Allora ragazzi Vi spiego la situation Come vedete là in basso Ho messo il pupazzo Il coniglio tanto è da lavare Lo porto via così E adesso per organizzarci meglio Abbiamo sfruttato gli scaffali che sono venuti liberi Allora Lì c'è in quella scatola azzurra Della Disney Ci sono cose di ceramica molto delicate E quindi sono lì Insomma sono tutte cose organizzate da Prendere e poi portare Come vedete c'è anche il Dyson Ci sono due sacchetti Uno e due Poi lì c'è un altro sacchetto La mia borsa E vabbè qui Quella lì è pulita È tutta roba pulita Poi come vedete i sacchi sottovuoto Dobbiamo andare a prendere gli scatoloni Per le cose sottovuoto O le portiamo Questo vediamo Magari le mettiamo nei sacchi Perché quelle sono leggere Quelle sotto il letto Insomma Vediamo magari Se puoi usufruire del camion Dei traslocatori E questa è la situazione armadio Che è organizzata La roba che porteremo via domani È questa Guardate L'ho messa tutta qui Allora come vedete È tutto organizzato In un modo molto molto ordinato Ci sono queste E tutta roba di sacchetti Praticamente Quello là in basso Non c'entra niente Non so perché si arriva sopra Lo tolgo Ancora Un paio di scarpe Lì Scarpe Sono due Scarpe Che poi gli sacchetti Si svuotano E tornano utili I due scatoloni Lì come vedete Non c'è più niente Sopra Ma sono cose da portare via E qui tutto organizzato E questo è quello Che portiamo via domani Praticamente Portiamo via i due scatoloni Che gli svuotiamo E così li riportiamo indietro Per riempirli Così ci troviamo Pratici Insomma Penso che portiamo via Anche il Dyson domani E Mentre di qua Troviamo Allora qua c'è il sacchetto Che vi do fare L'all Primark Quindi aspetto un attimo Qui sul divano Ho sistemato Tutte queste cose Che poi sono da portare via Il giorno dopo Là c'è i miei vestiti Per domani Nella tuta dell'Adidas Ci sono tutti questi sacchetti Vedete Lo zaino Una valigia Un altro sacco di Primark Tutte cose organizzate Per essere portate via Qui abbiamo Il solito sacco Sotto vuoto Sotto vuoto Dobbiamo comprare un altro Ma lo prendiamo domani Appunto gigante Che così ci possiamo Mettere tutti i cappotti Perché questo È rotto E bucato Non tiene Quindi Meglio prendere uno nuovo O lo portiamo Adesso vediamo Non ne ho la minima Idea ragazzi Qua c'è il mio vestito Da sposa Appeso Tanto Quando Svuotiamo Anche La parte La parte di qua Lo appendiamo Dentro E vediamo Un attimino Di qua Come vedete Nascite per vedere Che c'è la mia tazza Di cappuccino Come vedete Ah Domani Non so se domani Non so se domani O dopo Portiamo via Il comodino Penso domani No Il comodino Ma qua abbiamo ancora Una scatola Uno scatolone Poi c'è questo Quello La lanterna Quello lì Lo voglio rinforzare Con un altro sacco Queste sono tutte borse La cornice Queste sono borse Messe in questo Organizzatore di Ikea E questo è un altro Sacchettino Che Guardate ragazzi Facciamo così Questo Lo prendiamo Lo mettiamo qua Perché questo Lo portiamo domani Perché tanto Leggero Lo portiamo domani Qua c'è mio marito Che sa Per fare una live Dopo Stacchiamo quello Vediamo Cosa ne viene Della parete E Guardate C'è il mobile Così Già fatto Ma Così un attimo Da vedere Questo si lascia Al portare Penso che lo lasciamo Quello lì Che era Guardaroba E Comunque qua ci sono Altri valigie Una Una Due E qui Ho appunto Il pezzo del Dyson Questa sacchetta Ho questo qua Per le piante Poi ho questo La struttura La struttura Già l'ho portata via Ho questo Omega cuore E nulla Queste sono tutte cose Da portare E siamo Diciamo Organizzati Bene ragazzi Io Chiudo qui Perché Come vedete Anche dai miei occhi Mi si chiudono Sono stanca Cioè Sto praticamente Arrivata al limite Sto crollando Sto crollando Proprio Si fa sentire La stanchezza La tensione Del trasloco Cioè Proprio Si stiamo andando Proprio una botta Di stanchezza Mi sono fatta Il panino Con il prosciutto cotto Perché La piadina L'ho già mangiata oggi Quindi Mangio il prosciutto cotto E niente Io Spero di avervi tenuto compagnia Con questo breve vlog Non so neanche quant'è Perché adesso lo monto E vediamo Ho montato Il vlog Di mio marito Della tinta E È carino È bello È venuto bene La tinta è venuta bene Quindi Spero che sia piaciuto E niente ragazzi Domani Ci sarà un lavorone Sarà una giornata Devastante Ci vogliono anche pensare E nulla ragazzi Io Vi ringrazio a tutti quanti Vi ricordo ancora Di iscrivervi al canale nuovo Davide Chiara Channel Live Che siamo arrivati Quasi a duemila Iscritti In due giorni Cioè Grazie E Speriamo che stasera Si possa fare La live Dal cellulare E Nulla Noi continuiamo A aspettare Che Google Sistemi La faccenda Del moderatore Fantasma Mi hanno scritto la mail Ha detto che Comunque ci stanno lavorando Ci vorrà un po' Di avere pazienza Per dato anche L'emergenza Della pandemia Quindi Vabbè Noi Non demordiamo Aspettiamo E lasciamo fare Il lavoro Che devono fare Per il resto Niente Domani Vedrete appunto Un vlog Di mio marito Che in bianca Vabbè Lo riprenderò io E Comincerete a capire Un attimino Come faremo Le varie cose E Ragazzi Io sono stanca Non ce la faccio più Sono devastata Sono stanchissima Veramente Cioè Dormo Pure pochissimo Non lo so Spero veramente Di Sì Senza spero Abbiamo praticamente Finito Qualche giorno E Abbiamo finito Sicuramente Verremo poi A prendere le altre cose Che mancano Tipo le cose Del Natale E quant'altro Poi con calma Perché Sono Ci impiegheremo Troppo E E Niente ragazzi Vi mando un bacione Niente ripeto Scusatemi Se il video Il vlog Non è lunghissimo Però veramente Sono stanca Non ce la faccio più Ci vediamo Alla prossima Ciao